Oggi ragazzi siamo tornati in un nuovo video dove prenderemo il pacchetto delle reazioni della soglia 70 se vedete voi penserete che non ci arriva però se vedete con questi gettoni e con queste due missioni da 100 e questa da 250 che faremo penso ce la faremo quindi iniziamo subito e facciamo prima di due missioni da 100 dobbiamo fare compam e lo facciamo in duo e in duo dobbiamo fare causare e compam ripristinare ok iniziamo ragazzi altri fare questo visto che è una mappa che hanno messo vincitrice del giorno con quella vincitrice del giorno si può fare sempre il gioco ancora no ragazzi non ho fatto andare al centro no ok quindi ragazzi andiamo con la prossima partita un'altra energetica no ragazzi non c'ho capito più niente qua ah boh a meno abbiamo causato cioè causato 2.284.000 tonne ma non è niente di che ok ragazzi andiamo con la prossima partita questa volta è antica ok ok Prima ora prima prima, se lo vediamo. Vimiamo i cosi morto. No, no. Voi che è venuto da trovare. No, no! No, 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 no. No, no, no. Vabbè vuole rigiocare ragazzi Stiamo a giocare ancora Due gassi ok Raga noi non dobbiamo arrivare secondo Io devo toccare se non arriviamo Gondo tic Mamma mia che giocata che ha fatto Biondo Biondo Ma dove sta fatto il biondo Ma cosa? L'ha shottato in un colpo Ok ragazzi Due gattinini raga Mi devo pure ripristinare Vabbè noi mettiamo già non ancora Ok Questa è una cosa Sto raiutando il centro Perché è venuto Raga finalmente ho ripristinato un boss Vabbè ragazzi comunque adesso ho notato che Non c'entra la posizione che facciamo L'importante è che causano e resistiamo Ecco Ecco raga Adesso mettiamo l'ultima volta a giocare ancora Così possiamo uscire Comunque Comunque raga mi sono fatto il conto che Ce la faccio E prendo 102 e gettoni in più Quindi basta che completo la missione da 250 E La missione E una missione da 100 Ma raga mi ha fatto andare al centro Ma raga mi ha fatto andare al centro Non ci credo No E niente Ok Ok raga possiamo Se almeno riusciamo un po' a causare Cioè Qua adesso dovrei ripristinare No Qua iniziamo No 9 minuti Vabbè, è importante andare a che ciò, facciamo colpire da un boss 9 minuti No, no, sono morto No, raga, facciamo meno robarci La camiseta nostra, raga No, pareggio Raga, raga, raga Non fare lo stesso I poi Raga Poi Raga noi vacciono Ok raga, pensi che devo farla completata? No, non ci credo. Oh raga, non ci credo. Dai ragazzi, manca. Ci manca poco. Ok. Bisazne. ma l'altro loro giocatore è un azaro ancora io penso che io mi resistino No, ragazzi, quello che ho perso Ok, l'abbiamo complicato Ragazzi, ci rimane soltanto da causare in stamattina Proviamo a metterci show Ok, ragazzi Si è iniziata la partita Facciamo a dubbi Vieni, bibi Guarda, mi rubano i bibi, che vuole affatto Allora, ragazzi, che vuole Ecco No, ragazzi, ho morto, però penso di aver Calsato un bel c***o 13.000 Ok Lo mettiamo a giocare ancora Cioè, anche se non lo devo fare Però almeno così Per Fare più velocemente Ho iniziato a partire più velocemente, ma Ma va bene così Ho iniziato a fare un'altra cosa Non è così Sì, non è così Chia, non è così E' così E' così E' così Che bello? Che ragazza penso che cosa erano a giocati? Le grandi stanno ecco che la piccola è finita in essere bene. Mi hanno sbagliato un bombe. Mbè, fanno qui. L'importante è che io devo farlo assaggi tanto e non devo finire. è vero sembra che non puoi Non so se sceglie a 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 si che ragazzi ce l'abbiamo fatta ecco qua qualche atto di reazioni cosa conterrà vabbè lo scopriremo tra 3 2 1 e ma ma non l'invito dai aspettate allora 3 2 1 andiamo mr p edgar e mortis epica wow bellissima andamola a vedere allora abbiamo trovato quella di mr p di edgar ah questa qua è bellissima vediamo quella di mortis no no raga è bellissimo questo però ho trovato un quella epica cioè bellissimo cioè io ho trovato sempre le rare adesso vi faccio vedere quello che ha tipo questo che piange il nita non ha niente di corte niente di bull cioè raga vedete io soltanto quella epica ce l'ho soltanto di strecca vedete vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate tante like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video ciao